ola ciao ragazzi buon pomeriggio allora oggi è venerdì è giorno di fare una ricetta qua saltare low carb siamo insieme tutti venerdì per cucinare in italiano sileni ed io faremo sempre una ricettina facile pratica ciao ragazzi qui sono i miei follower in brasiliani vivi parlo nato olà gente bom dia a gente tá aqui online cozinhar junto a fare la nostra cooking class toda sexta-feira a gente cozinha in italiano gente re a vera a melba tutto bene pessoal benvindos oggi parliamo in italiano oggi continuiamo in italiano qua nel nostro profilo attendiamo un attimo che entra si lei e ciao divertente verlo parlare in italiano aspettiamo un attimo che entri neni e cucineremo faremo dei pancake fit low carb buonissimi facile da cucinare con poche calorie tanti tanti nutrienti aspettate che entra neni la sto vedendo qua ciao sileni e ciao cerco la tua richiesta ragazzi ricetta facile veloce buona qua sul nostro profilo lo trovi ritrovi sempre 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 di lunedì in portoghese e di venerdì e in italiano bene 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 be eh bene ben ben raramente bene 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 Advisor ciao ciao não restou come vai tie come stai bene bene ansiosa per cucinare insieme un'altra ricetta fit low carb es esatto racconta ti cosa facciamo oggi amica ma dove sei tu? aspetta che devo mettere una cosina qua io sono in oficio sono nella pausa transa faccio la pausa transa adesso noi due facciamo una ricetta ragazzi oggi velocissima ok velocissima buonissima, proteica e un pasto completo pancake, a chi piace il pancake? dimmi a chi piace il pancake? io ciao a tutti grazie di essere venuti grazie di cuore dai cominciamo dai che so che sei in pausa a pranzo e quindi dobbiamo svegliare di tu? dico io la ricetta, il pancake è dolce ti faccio vedere sì sì ti faccio vedere gli ingredienti e te lo dici esatto qua abbiamo due cucchiai di sostituto del pasto è un integratore una farina vegetale una farina vegetale di proteica che usiamo per cucinare fare le vostre ricette erano due cucchiai e il gusto che ti piace di più se avete dubbi potete chiederci su direct che vi scrivete la città che siete che così vi consigliamo dove trovare oppure comprare direttamente della fabbrica troviamo un modo che avete tutto in mano poi io ho scelto il gusto mela speziata buonissima io adoro mela speziata mela con cioccolato con la con la cauda con la come si chiama? con la copertura si chiama la cauda la copertura con la glassa di cioccolato boh poi un uovo giusto? un uovo uno un cucchiaio di di latte in polvere di soia in polvere ecco adesso 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 mi è caduto ciao Fede ciao 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 mi è caduto in telefono tranquilli oggi facciamo una ricetta di pancake dolce buonissimo facile low carb poche calorie sarà in italiano la ricetta è in italiano oggi di venerdì facciamo sempre tutte le settimane tutti i venerdì siamo con voi quando c'è una lavora non la paga frango e tutti i venerdì siamo in portoguese nella seconda feira cozinhiamo in portoguese no instagram una cesta in italiano bene mi sono dimenticata di dire che abbiamo bisogno che occorre ancora al di là dell'acqua quanto basta è lievito per dolce ecco un cucchiaino lievito un cucchiaino ok mi riesci a vedere dai sì vedo sì ok dai iniziamo iniziamo prima sbattere l'uovo l'uovo è uno perché è una ricerca di pasto completo ciao Giumara siamo qui oggi qua ok sbattere l'uovo sì guarda com'è rosso il mio uovo guarda com'è bello è della sono delle galine quelle un contadino qua vicino che me lo che me lo consiglio che bontà quando ci troviamo bello sono bene Giumara siamo contenti che sei qui ciao Giumara benvenuto a Maria a Maria è qua con noi a Melba sì un sacco di gente bella grazie ragazzi che bella ragazzi mandate i cuoricini grazie davvero mandate i cuoricini qua sotto che così l'Instagram capisce quanto è buona la nostra rincetta esatto accendi il fuoco ecco accendi il fuoco basso basso nel frattempo Neli ha sbattuto l'uovo che così troviamo che il pasto venga più omogeneo con l'uovo ben sbattuto esatto poi aggiungi ecco i due cocchiali aggiungo di sostituto del pasto lei sta usando il fuoco bella spezzata e anche boi di latte esatto di soia in povere esatto l'acqua io aggiungo piano piano che perché perché dipende della misura dell'uovo quindi adesso aggiungerò due cucchiai di puoi cominciare con quattro già subito sai con quattro dai quattro cucchiai di acqua ok tre quattro ragazzi mandate l'aereo che avete quella freccina sotto mandate invitati gli amici perché siamo qua in italiano specialmente per insegnarvi una ricetta facile e anche i cuoricini che ci appiacciono esatto wow quattro cucchiai sono scotte giustissimi secondo me dai guarda aspetta che ti faccio vedere forse che buon odore secondo me se volendo potresti mettere anche uno o due sì anche un altro due vero sì sì giusto due così riprendo gli ingredienti un uovo due cucchiai quello grande di cucina cucchiai di sostituto di pasto una farina fatta con proteina vegetale che lo usiamo per fare le nostre ricette così vengono con pochi colori e tanti nutrienti poi guarda che bella che bella ciao Kelly ciao Diva ciao Maria ciao ragazzi ciao Paola grazie io aggiungo aggiungo un altro cucchiaio perché secondo me guarda fino adesso siamo con cinque o sei cinque faccio sei dai l'ultimo cucchiaio perché secondo me per rimanere più sì perché quando più cremoso metti ciao Maria Maria di Lourdes oggi cuciniamo in italiano qua sul nostro profilo facciamo che abbiamo tanti allievi italiani che ci studiavano ah ma avete fatto solo le live di cucina in portoghese non va bene non è giusto facciamo anche in italiano certo 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 adesso io dai adesso io abbiamo sbattuto l'uovo ho scolato tutti gli altri inverni tranne il lievito abbiamo messo acqua poi basta lì a seconda della misura dell'uovo a me sono andati bene sei cucchiai di acqua e adesso bravissima aggiungi il lievito lievito adesso ah sì prima di tutto lei accendo il fuoco e lei che lo continuano a basso e sta ungere la padella con olio di cocco allora dipendi della padella la mia perché mi fa un po' di scherzi allora io metto ma ci sono delle pentole che non serve neanche perché è talmente per sicurezza quanto più muova muova la padella è brava poi con il tempo lo mettono a bastovire cose a volte con cucchiai le righi poi si incollano l'impatto esatto infatti questo io sto usando il latte il latte di cocco dai e l'olio di cocco no aspetta il latte non l'olio di cocco esatto l'olio di cocco oggi noi sto coccendo insieme esatto un cucchiaino di rievi non coccendo insieme oggi sono al lavoro ragazzi ciao Marcia ciao Renata un cucchiaino così quello di caffè adesso delicatamente mescoli mescoli esatto mescoli quando giri con un cucchiaino cabe non è spesso spesso un poco qui no più morbido mondo Débora quanto tempo ciao Kelly oggi Ivete ben vinda oggi a gente sta fazendo a receita da panqueca doce in italiano che nas sextas feiras a gente cozinha italiano aqui no nosso perfil Erika benvenuta e queen che dite dai faccio due faccio due panqueca sai un po' che non riesco a vedere sai l'impasto due 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 sì 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 due dai due vado eh vai vai quindi adesso la sistem le ha messi ha diviso l'impasto in due e ci verranno due panquechi questi panquechi questa recita completa serve come impasto principale quindi potete mangiare di mangiare la panqueca e i panqueca magari in colazione buonissimo è vero facilissimo ciao buongia debora oppure oppure un pasto un pasto vero sì un colazione completa o cena o pranzo perché oggi la facciamo dolce però questo stesso panquechi si può fare si può fare salato e usiamo invece del sostituto di pasto ad esempio oggi nella spezzata speziata brava abbiamo un gusto più vaniglia c'è un profumo c'è un profumo fantastico fantastico che voglia che voglia mamma mia oggi ho mangiato un pane quello che ho fatto la stessa ricetta che abbiamo fatto noi la settimana scorsa così benvenuta 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 ecco si vedi no? è là ok si vedi ho cambiato la posizione del telefono adesso sono vicina è andato bene è andato molto bene io volevo capire solo il fuoco se lo hai alzato o se continua a basso allora il fuoco io allora alzo un po' così va più non tutto tutto per un po' potrei adesso controllo come va aspetta un attimo che prendo il mio asciugo le mani allora adesso controllo un attimo come sta andando se lo hai alzato solo poco tempo fa ci vuole ancora un po' ci vuole ancora un po' lascialo tranquillo per un paio di minuti dai poi dopo lo giro e possiamo dire possiamo dire anche la questione dei nutrienti di valore nutrizionale sono 240 chilocalorie per una ricetta completa di un passo principale solo 240 calorie esatto con 25 grammi di proteina e 9 grammi di fibra quindi hai sensazione mangi bene è buono prepari in un attimo è più buono della partita dei torticchi che fai con la farina 00 eccetera non ti gonfia dimagrisci non hai fame è una bontà oh ciao ciao è quasi è quasi ora di girarlo dai quasi ora ragazzi come è fa un po' delle paline di come è si guarda sta cuocendo sta cuocendo sopra ciao sta cuocendo sopra noi adoriamo i vostri cuoricini ragazzi mandati cuoricini si si adesso lo giro guarda dai adesso lo giro brava brava pronto eh si super proprio morbida io lo sto immaginando il profondo qua nel frattempo che finisce di cuocere volevo invitarvi che faremo una maratona inizia ragazzi inizia devi scriverti fino al 17 fino a no no fino al 17 devi scriverti esatto prima aprieremo un gruppetto su pre maratona cioè lì si spiegherà eh i tempi eh le regole ci prenderemo dei dei accordi di come organizzare e sarà una giornata di 10 giorni e questa maratona riesce a dimagrire fino a 4 chili in 10 giorni allora se avete voglia di capire meglio come funziona magari togliere quel chili in più delle feste di fine d'anno befana cioccolatini dolcezia scriveteci amica è pronto wow il link lo trovi nella bio tanto di Sileni quanto il mio potete cliccare sul link della biografia che trovate lì nel nostro profilo scritto maratona escecate sopra entrate subito nel gruppetto per capire meglio per garantire il tuo posto per riservare il tuo posto per rimanere lì e poi la maratona inizia il 24 ovvero il 24 non è lì il 24 esatto e quindi fammi vedere questi panchetti amica è pronta adesso devo fare la allora è pronto hai visto che veloce madonna è velocissimo adesso facciamo scusa dai facciamo la cremina per mettere sopra la glassa facilissimo due cucchiai due misurini adesso ti dico due misurini acqua quanto basta esatto questo è una glassa solo con il sostituto di pasto di cioccolato che usiamo quello più buono che c'è esatto però è acqua però io aggiungo il cacao in polvere che a me piace tantissimo 100% cacao 100% cacao 100% cacao 100% cacao non posso fare vedere per non fare vedere le marche perché non si può noi non facciamo pubblicità di nulla qua ragazzi ecco chiediamo avete bisogno di trovare gli ingredienti scrivete su al nostro direct vol interissimo vi diamo tutte le però non ci piace fare pubblicità gratis wow sì sì un cucchiaio un cucchiaio è solo per colorare un po' a me piace cioccolatoso capito e quindi io io lo metto un pochino vedi quanto basta adesso è un po' densa aggiungo ancora un pochettino di acqua sì sì ancora un pochino di acqua ma c'è un profumo che vi voglia di mangiare subito subito boh è pronta guarda che roba fammi vedere guarda aspetta che ti faccio vedere fammi guarda wow wow che super fantastico no è fantastico perché guarda ma guarda guarda fammi vedere no fantastico buonissima quindi due cucchiai di sostituto di pasto cioccolato e un cucchiaino di cacao amaro 100% senza zucchero 100% cacao cioè perché sono quelli raffinati sono cacao proprio ecco vado vai riesci a vedere aspetta amica tu ce l'hai quello allora la metti sopra vuoi vedere sì 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 che bontà cuoricini ragazzo che belle doc che bontà wow wow guarda che si leni non si cazza madonna santa che bontà guarda che bello no no guarda adesso adesso spruzzo un pochino di cocco che a me piace guarda ma proprio proprio una spruzzata velocissima solo per fare quello ripartiamo gli ingredienti ripartiamo dico io o dici tu dico io un uovo due cucchiai di sostituto di pasto il gusto che preferisci te un cucchiaio di latte in polvere un cucchiaio di latte in polvere e un cucchiaino di lievito per dolce poi acqua un po' basta il modo di fare è lasciare il lievito per ultimo l'impasto deve essere mezzo liquido non tanto duro e ciao buongia nagi labia a debora e fai in padella se vuoi puoi mettere l'olio di cocco oppure niente dipende dalla tua padella e farlo controlla un minuto e mezzo due minuti ogni lato il fuoco non tutto nell'alto tutto nella massima potenza poi la glace ha usato sostituto di pasto colato con cucchiaio di cacao in polvere e acqua quanto basta è pronto 140 calorie 25 grammi di proteina 9 grammi di fibra grazie dei cuoricini ragazzi benvenuti di venerdì ci troverò sempre qua a cucinare in italiano io non vedo l'ora che è fatta fammi vedere lì amica adesso è la parte più buona che stupenda che stupendo wow che bontà che bontà volete mangiare bene e dimagrire avete l'opportunità di entrare nella maratona inizio il 24 però l'inscrizione è solo fino al 17 quindi cliccate sui link che trovate sulla nostra biografia nel nostro profilo instagram wow e partecipate 4 kg perdere fino a 4 kg in 10 giorni avete farete segui privato con questo gruppetto sono solo 8 partecipanti e la gente demagresce ragazzi tutti i giorni c'è il menu diverso esercizi attività e conoscenza contenuto di valore questo è il programma che facciamo è il programma di 12 mesi però facciamo un massaggino adesso perché sappiamo che avete mangiato forse un po' di più del desiderio di soldi esatto grazie 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 per noi oggi che io sono al lavoro quindi ho fatto una pausa per essere con voi per me è l'esempio perciò abbiamo fatto sono contentissima io adoro anche io e lei cosa facciamo devo lavorare spostiamo ci sono ci sono sempre se volete sapere di più chiamaci scrivi cioè scrivi che diamo tutte le vendite preferiamo non fare nomi nominare marchi cose varie perché tanto non siamo pagati per quello facciamo che avere piacere di condividere con voi le nostre ricette low carb poche calorie che ti dà tanta sassietà però se avete bisogno di dettagli avete rimasto con dubbi a noi ci fa piacere ricevere i vostri messaggi scrivete su diretti volentieri scrivete solo la città che siete e vi aiutiamo a trovare tutto e chiariamo i dubbi e così e vi aspettiamo adesso al nostro gruppetto pre-maratona che inizia il 17 vi aspettiamo fino al 17 dovete essere già lì iscritti ragazzi fino al 17 oggi abbiamo 3 giorni però siccome è un gruppetto molto serletto si riempie in un attimo esbrigatevi esbrigatevi perché è stupendo veramente la opportunità di bruciare fino a 4 kg e i eti di ornico e piacere mangiando con questo buon tac con questo che abbiamo con la pervoca di ornico è stato un piacere è stato un piacere sono tutta di cioccolato che figlia che figlia sto morendo di foglio allora ci vediamo lunedì oppure venerdì tutte le due lunedì ci vediamo in portoghese venerdì ci vediamo in italiano seconda sera in portoghese e la stessa sera in italiano grazie sempre per fare il cooking class grazie bacio buon lavoro amica grazie la ricetta rimane salvata qua sui GVT del profilo di Sileni e sul bioante dai bacio ciao